Dopo la battuta di arresto a Trento in campionato, il Copregliore torna grande. È bastata poco più di un'ora per sconfiggere Verona in trasferta. Solo nel primo set c'è stata partita. Ingranata la quinta, il Copra sovrasta la squadra ospitante che soccombe senza appello in tre set. 25-23, 25-14, 25-17 lo score. Nel primo parziale i ragazzi di Monti soffrono in battuta e a muro e si ritrovano dopo un iniziale svantaggio sul 15 pari. Zlatanov con un muro vincente porta il Copra a vincere il set, 25-23. Nel secondo la squadra di Monti si fa più vivace ed efficace. Una difesa super e una battuta, quella di Simon, distruggono i sogni e il morale del Verona. Non c'è storia, 25-14. Nel terzo l'agonia per i padroni di casa continua. Il Copra è padrone del campo. I troppi errori di Verona in battuta e ricezione consegnano ai ragazzi di Monti l'ultima vittoria del 2013. Ora due settimane di pausa per poi ritornare in campo l'8 gennaio contro la capolista Macerata al Palabanca.